Un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo sui nostri social, nei nostri canali social e il sito dell'Agenzia Dire. Oggi riprende la rubrica Direzione Roma, riprende qui in studio con il nostro ospite di oggi, che è Luciano Nobile, deputato di Italia Viva. Buonasera. E diciamo anche responsabile per il partito per quanto riguarda la città di Roma, quantomeno una delle persone più indicate a parlare di Roma all'interno di Italia Viva. Direzione Roma riprende dopo la pausa estiva e soprattutto dopo il lungo periodo di lockdown. Cercheremo di arrivare, in vista delle elezioni del 2021, con quante più proposte possibili da mettere sulla schiavania del prossimo sindaco di Roma. Perché ricordiamo che la caratteristica di questa rubrica è proprio quella di chiedere ai nostri interlocutori politici, operatori culturali, sociali e imprenditoriali, proposte per il prossimo sindaco di Roma. Però in questo caso non possiamo che partire dalla stretta attualità, perché proprio ieri sera Carlo Calenda, leader di azione, ha annunciato la sua discesa in campo. Se non sbaglio, ma la domanda è questa. Italia Viva qualche tempo fa, qualche giorno fa, ha detto che se Calenda fosse sceso in campo sarebbe stato appoggiato da voi, da Italia Viva. La prima domanda è proprio questa. È il vostro candidato Carlo Calenda per Roma? Carlo Calenda è una figura a livello molto alto, molto importante. Noi da mesi, che abbiamo chiesto con grande forza al centro-sinistra di organizzarsi a Roma, perché noi crediamo in un'alleanza di centro-sinistra, intorno all'alleanza di centro-sinistra vogliamo costruire il futuro della capitale. Crediamo ci siano tutte le condizioni per vincere, per superare questi dieci anni molto difficili che Roma ha attraversato e questi cinque anni terribili di amministrazione 5 stelle e raggi. E per farlo al PD abbiamo chiesto in questi mesi di incontrarci, di costruire una coalizione forte e larga, di costruire un programma fatto di idee, di cambiamento profondo, perché questa è una città che ha bisogno anche di un cambiamento profondo, di scelte che sono state rinviate troppo a lungo e che è finalmente arrivato il momento di prendere. E però è anche una città che ha bisogno di una squadra forte, questo chiedevamo, lo ripete molto spesso Francesco Rutelli, uno dei sindaci, forse il migliore sindaco che Roma ha avuto dal dopoguerra oggi. Rutelli ripete spesso per governare Roma, pensate Campidoglio, municipi, aziende comunali, c'è bisogno di una squadra di 100-150 persone, sono d'accordo con lui e credo che noi dobbiamo costruire un gruppo dirigente di questo livello. E poi però ci vuole una personalità, perché per una fase così difficile, per sottrarre Roma dal degrado e dal declino al quale sembra ineluttabilmente condannata, serve una personalità forte. Io sono convinto di questo, noi siamo convinti di questo. E quindi abbiamo chiesto che si lavorasse a individuare delle personalità forti. Lo stesso segretario del PD Nicola Zingaretti, pochi giorni fa, ha lanciato un appello ai big del centro-sinistra, un appello alla generosità di mettersi in campo. Ad agosto, quindi in tempi non sospetti, quando Carlo Calendo aveva escluso in ogni modo la possibilità di candidarsi a Roma, io dissi, credo che forse la prima agenzia che batte la mia dichiarazione fu esattamente la dire, e dissi, secondo me Calendo è una personalità che ha queste caratteristiche, cioè esperienza, capacità dimostrata di governo, è romano e soprattutto ha la forza di dare la scossa, perché questa è una città che c'è bisogno anche di una scossa. Quindi accolgo con grande favore il fatto che abbia sciolto ogni dubbio e abbia deciso di mettersi in campo. Penso che sia una grande opportunità per il centro-sinistra romano e spero e credo che il centro-sinistra romano debba coglierla. Indubbiamente la candidatura di Calenda è molto forte, parliamo di un personaggio che sicuramente raccoglie in città un forte consenso da diverso tempo. E probabilmente si discuterà del suo nome anche al prossimo tavolo del centro-sinistra, questo cantiere per le elezioni del 2021 che si è aperto la settimana scorsa, la cui prossima riunione dovrebbe essere questa settimana. Eppure proprio in questo contesto della coalizione allargata qualcuno non è d'accordo con questa discesa in campo. Dal PD si levano voci critiche rispetto a questa candidatura, perché secondo l'Università Nobile c'è questa avversione nei confronti di una candidatura che comunque è certamente vincente? Non lo so, non lo so, mi ha fatto anche abbastanza impressione, devo essere sincero. Ho visto nelle ultime 48 ore una serie, un profluvio di dichiarazioni di vario genere contro la sola ipotesi che Carlo Calenda osi candidarsi sindaco di Roma mi ricorda cose che ho visto in passato sempre in quel partito. Mi stupisce, devo dire che forse sono state battute più dichiarazioni del PD, disponenti del PD contro Calenda in 48 ore che in 5 anni contro Varaggi. E questo forse dà il metro di un po' di confusione che c'è in alcuni esponenti del centro-sinistra. Io credo che a quel tavolo, quando ci sarà, noi ribadiremo quello che abbiamo detto. Vogliamo una coalizione di centro-sinistra con un progetto chiaro e con un candidato molto forte. Finora, nonostante ci siano figure molto rispettabili fra quelle che hanno avanzato la loro candidatura, uno per tutti, penso al presidente del terzo municipio Giovanni Caudo, che è una figura che ha fatto un ottimo lavoro e che ha tutta la mia stima. Detto questo, la candidatura di Calenda a me appare come una candidatura molto forte, una grande opportunità che il centro-sinistra deve cogliere. L'ha messa a disposizione con grande generosità, devo dire, Calenda. Credo che noi dovremmo coglierla e tutto il centro-sinistra dovrebbe agire con la stessa generosità, nello spirito che l'obiettivo è quello di intervenire e lavorare perché a Roma si possa vincere e poi una volta che si è vinto si possa governare perché noi l'errore di pensare solo a vincere l'abbiamo già fatto in passato. L'ultima volta che a Roma abbiamo vinto l'abbiamo fatto con una campagna elettorale che aveva come slogan non è politica è Roma. Io credo che, al di là di come è finita, è finita male, è un fallimento di cui tutti portiamo un pezzo di responsabilità, però credo che in nuce il senso di quel fallimento fosse già in quello slogan, come non è politica è Roma. No, no, è politica ed è Roma perché per Roma serve la buona politica, la migliore politica possibile, e figure che siano in grado di incarnarla. Dopodiché, se oltre a Carlo Calenda ci sono altre figure di quel livello che con la stessa generosità vogliono mettersi a disposizione di Roma, ma benvengano, sceglieremo insieme, sceglieremo al meglio. Infatti arriviamo al tema delle primarie. Questa mattina ancora, non è la prima volta, il segretario del PD Nicola Zingheretti ha ribadito, ha aperto le primarie naturalmente a Calenda, ha detto che le porte non sono chiuse, Calenda può partecipare, ma noi non rinunciamo alle primarie, questa potrebbe essere la sintesi che facciamo giornalisticamente. Mi dica se è uno scenario credibile, Calenda partecipa alle primarie, ricordiamo che Calenda ha sempre detto di no, alle primarie. Quindi Calenda partecipa, il PD rinuncia a un candidato di bandiera. Un punto di caduta possibile per due fronti alleati che però in questo momento sembrano giocare su posizioni diverse? Io non lo so, io cerco di fare questo appello alla ragionevolezza di tutti. Sono dieci anni che Roma è in grande difficoltà, sono dieci anni che ha precipitato nel degrado, nel declino, tra mille fallimenti, mille occasioni perdute e in particolare sono cinque anni che i populisti del Movimento 5 e 6 l'hanno messo in ginocchio. Corriamo un rischio grande, e cioè quello che la destra sovranista avanzi a Roma, per questo c'è bisogno di stare insieme il più possibile e quindi anche noi che abbiamo molti, spesso, motivi di divergenza, anche rispetto ai nostri alleati di governo, diciamo a Roma serve una coalizione forte e unita e troviamo le formule della convergenza. Guardi, noi non abbiamo nulla contro le primarie, siamo stati sempre pronti a farle, ogni qual volta ce n'è stata l'occasione, ancora prima della nascita d'Italia Viva, insomma nasce intorno alla figura di Matteo Renzi, che ha costruito tutto il suo percorso politico, vincendo ripetutamente le consultazioni delle primarie. Le abbiamo fatte, ognuno ai suoi livelli, in mille occasioni. La cosa divertente e anche un po' spiacevole è essere le primarie invece di essere un valore aggiunto, anche volendo un pezzo della campagna elettorale e del rapporto che costruisci positivo con la città, diventano una clava da usare contro qualcuno. Da un anno e mezzo il PD non utilizza più l'estrumento delle primarie, legittimamente, legittimamente, secondo me facendo un errore, ma il PD ha messo in naftalina le primarie da un anno e mezzo, non le ha utilizzate per scegliere nessuno dei candidati presidenti delle regioni, non le ha utilizzate neanche nei capoluoghi dove si è andati al voto, nelle città principali, una per tutte Venezia, dove purtroppo abbiamo perso insieme qualche settimana fa, non si sono fatte le primarie. Ora, anche nelle città che vanno al voto a questo turno, Milano, Torino, Napoli, non si sente o si sente pochissimo pari di primarie, che le primarie diventi in un tema inerudibile a Roma, solo magari per mettere in difficoltà un candidato diventa un po' discutibile. Detto questo, nulla contro le primarie, nulla contro il fatto che possano stare dentro il percorso, però rendiamoci anche conto della situazione che affrontiamo col Covid, una situazione molto complicata in cui non possiamo fare le assemblee, rischiamo di chiudere gli uffici e di mandare le persone a fare smart working, rischiamo di mettere in discussione le possibilità e non deve accadere che i nostri figli possano continuare ad andare a scuola in presenza, non vedo un clima da gazebo con migliaia di persone come siamo abituati a vedere in questo momento in piazza. Ma ripeto, nulla a questio sullo strumento primarie non usiamolo, però siccome le primarie invece sono uno strumento per allargare il campo, non usiamolo come strumento per chiudere le porte a qualcuno. Quella di Carlo Calenda è una candidatura che può anche rubare, usiamo un attimo questo termine, voti nel campo del centodestra, è una figura moderata che piace anche a molti moderati di centodestra. Per non scoprire troppo il fianco a sinistro c'è bisogno di un ticket con una personalità più di sinistra? Non so, non so neanche se funzionano poi più in un'elezione come qua del sindaco, soprattutto queste alchimie geografiche, destra, sinistra, io penso che serva una figura autorevole, l'ho detto, che parli molto chiaro ai romani, che si rivolga a tutti i romani, non solo a quelli di una parte politica. La parte politica deve essere chiara, poi bisogna avere la forza e il coraggio di parlare a tutti i romani, l'abbiamo visto, ormai l'elettorato è molto mobile, si sposta di coalizione in coalizione in base all'elezione, in base alla credibilità dei progetti messi in campo. Quindi Calenda ha sicuramente la capacità di parlare a tutti. Quindi in un momento in cui il centrodestra peraltro è in difficoltà nella ricerca di un candidato, avrebbe la capacità di parlare anche probabilmente un elettorato moderato di centrodestra che non vuole derive sovranistre o che non vuole darle a città che fino a qualche anno fa la chiamava la drona. Dall'altra parte però c'è bisogno certamente di una coalizione larga e coesa. Ripeto, io credo che quello che serve è un progetto molto chiaro alla città che punti tutto sulla riscoperta dell'orgoglio dei romani. Dopo dieci anni in cui Roma è stata in ambascia e la voglia di farla ripartire prima di tutto. Allora chiudiamo con un'ultima domanda che riguarda la parte programmatica. Come detto noi chiediamo sempre le proposte per la città, i nostri interlocutori oggi è stata un po' più politica l'intervista, però chiudiamo così quali sono le tre proposte, i tre progetti, le tre idee di Luciano Nobili per i prossimi cinque anni, in modo tale che il prossimo sindaco abbia i suggerimenti anche di Nobili. Ma il prossimo sindaco conterà, spero, sui suggerimenti dei tanti e tantissimi militanti, elettori e partecipanti iscritti in Italia Viva. Noi avremmo dovuto svolgere a novembre la nostra Leopolda per Roma. Adesso con le esigenze del Covid vedremo come riprogrammarla. Il nostro obiettivo è quello di svolgere un appuntamento così grande, aperto, trasversale, promosso da un partito ma non di partito, aperto a tutti i romani che vogliono dare una mano alla loro città e chiuso solo a populisti e sovranisti. In quell'occasione, con i tavoli di lavoro che sono già in corso e già stanno lavorando, forniremo al candidato sindaco del centro-sinistra il nostro appoggio e le nostre idee, scritte nere su bianco, come contributo al programma per la candidatura sindaco. Se devo indicare tre priorità, molto rapidamente, la prima è, ed è davvero un punto non programmatico ma nei fatti lo è, puntare tutto sull'orgoglio dei romani. Il messaggio che deve passare è che questa città non è condannata al degrado, non è condannata al declino, non è un destino ineluttabile. Roma può tornare a essere grande, può tornare a essere una vetrina per tutto il mondo e anche una città guida, come è stata negli anni 90 nel 2000. Il secondo, puntare tutto su due temi che sono emergenze e diseguaglianze. Oggi a Roma ci sono molte emergenze che spesso coincidono con le vere grandi diseguaglianze della città del XXI secolo. Molti interlocutori, anche politici, che si occupano di Roma sono abituati a guardare Roma con gli occhi di 20 o 30 anni fa. Roma è molto cambiata. Un milione e centomila romani vivono oltre il grande raccordo anulare, c'è una città che sta là e di cui ci occupiamo troppo poco. Uno per tutti di queste emergenze è l'emergenza mobilitaria. Il diritto alla mobilità è uno dei diritti negati del XXI secolo, è uno dei diritti fondamentali dell'uomo. Ci sono cittadini romani che in realtà non vivono, non fruiscono, non conoscono Roma, si vive in delle isole senza poter vivere tutta la città. Questo perché non funziona il trasporto pubblico. Il trasporto di una città è fatto di un mix di tante cose, ma quando il trasporto pubblico, soprattutto aggravato dalla vicenda Covid, è così carente, record di corse saltate, record di contratto di servizio non rispettato, voi pensate che Atac perde in media il 20% delle corse rispetto a quelle che dovrebbe garantire il contratto di servizio e questo vuol dire che non le perde sulle corse redditizie, il 64 che va da Termini a San Pietro, ma questo vuol dire che sulle linee periferiche e ultraperiferiche si perdono anche il 40% o il 50% delle corse, vuol dire pezzi di città totalmente abbandonati. Ultimo tema e ultima priorità, ce ne sarebbero altre perché c'è il riordino dei poteri di Roma Capitale, perché questo è fondamentale, è compito nostro del Parlamento, c'è un lavoro avviato anche trasversale a cui si sono sottratti solo due forze politiche, il Movimento 5 Stelle e la Lega. Le altre forze stanno ragionando delle cose che si possono fare con la legislazione vigente, di quelle che si possono fare con modifiche legislative circostanziate, sarebbe bello che se da qui a maggio riuscissimo a stabilire un roadmap del minimo comune denominatore che ci permetta di arrivare alle elezioni consegnando a chiunque le vinca. È possibile? È un scenario possibile? Ci stiamo lavorando, non è semplice, è un scenario possibile, ci stiamo lavorando devo dire da Leo a Fratelli d'Italia, perché Roma viene prima delle divisioni e quindi forse c'è un tessuto di scelte che si possono condividere, almeno il minimo comune denominatore. E poi ultimo punto, cogliere il grande treno degli appuntamenti internazionali, perché guardate, oggi la competizione non è più tra gli stati, la competizione è tra le grandi città, tra i grandi metropoli e Roma ha perso troppe occasioni. L'ultima con l'amministrazione Raggi, l'amministrazione del no a tutto e qua delle Olimpiadi. Ora, il prossimo sindaco di Roma ha una grande occasione, oltre ai 150 anni di Roma Capitale, ma è il giubileo del 2025. Voi ricordate cos'è stato il giubileo del 2000 per Roma? Il giubileo del 2025, il primo giubileo di Papa Francesco può essere per Roma una straordinaria occasione internazionale. Magari ci saremmo lasciati il Covid alle spalle, se tutto andrà bene potremmo tornare e potrebbe essere un grande appuntamento del post-Covid di ritorno della centralità di Roma all'internazionale. Il prossimo sindaco ci avrà il compito di organizzare quell'appuntamento lì e può essere l'appuntamento di ripartenza e di riscosta di Roma. Bene, grazie Luciano Nobili, grazie per essere stato il nostro ospite. Grazie a voi. E noi salutiamo chi ci ha seguito e chi ci seguirà sui nostri canali social, sul sito dell'Agenzia Dire e preannunciamo già le prossime tappe, avremo anche ospite il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Grazie.